Oggi siamo qui per parlare di una notizia emozionante che ha fatto il giro del web. Francesca Vaccaro, la splendida moglie di Carlo Conti, è in attesa di un bambino. In questo video, esploreremo insieme i dettagli di questa gioiosa notizia e condivideremo alcune curiosità sulla coppia. Il lieto annuncio è arrivato direttamente da Francesca e Carlo sui loro social media. Con grande gioia, la coppia ha condiviso la notizia con i loro follower, scatenando una valanga di congratulazioni da parte dei fan. Prima di addentrarci nei dettagli della gravidanza, facciamo un breve viaggio nella storia d'amore di Francesca e Carlo. La coppia si è conosciuta diversi anni fa e da allora ha condiviso momenti indimenticabili insieme. Dai primi incontri agli eventi più significativi della loro vita, la loro storia è davvero speciale. Ora, tornando alla dolce attesa, Francesca Vaccaro e Carlo Conti sembrano radianti nella fase della gravidanza. La coppia ha condiviso momenti intimi e teneri attraverso i social media, mostrando la loro felicità e l'attesa del piccolo arrivato. In conclusione, auguriamo a Francesca e Carlo tutto il bene del mondo in questa nuova avventura della genitorialità. Siamo sicuri che saranno genitori straordinari, pieni di amore e dedizione. Se avete notizie aggiuntive o desiderate condividere i vostri auguri, lasciate un commento qui sotto. Grazie mille per averci seguito oggi. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo al prossimo video.